Non siamo in una situazione di epidemia, lo afferma il direttore generale della ASL di Pescara Armando Mancini. A proposito della tragedia di Andrea Montebello, il 21enne di Città Sant'Angelo, deceduto a causa di una sepsi meningococcica fulminante. Stamani l'azienda sanitaria ha ricevuto infatti gli ultimi risultati degli esami eseguiti sui campioni prelevati dal giovane. Si tratta di un ceppo particolare, un caso sporadico, circoscritto, legato alla reattività individuale del povero ragazzo. Non ci sono quindi indicazioni per una vaccinazione a tappeto, dopo che i laboratori della ASL pescarese avevano individuato il batterio in questione, meningococco di tipo B. Gli ultimi accertamenti sono stati eseguiti dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Mayor di Firenze, centri di riferimento nazionale in materia. Esami che hanno consentito di individuare il ceppo responsabile della morte del povero ragazzo, denominato ST213. Non è lo stesso responsabile di un'epidemia in Toscana, ipotesi di cui si era parlato dopo il decesso del giovane. Ribadendo che si tratta di un caso sporadico, Mancini sottolinea che non ci sono ulteriori indicazioni e precauzioni da prendere rispetto a quelle già adottate, cioè la profilassi farmacologica per coloro che hanno avuto contatti diretti e prolungati con il ragazzo. La vaccinazione è sempre una cosa utile, suggerimento valido, a prescindere da questo caso, conclude Mancini. Il giovane era arrivato in pronto soccorso attorno alle 21 di martedì 30 con i sintomi tipici della meningite, accertato che si trattava di sepsi, meningococica, è stato ricoverato prima in malattie infettive e poi in rianimazione, ma nonostante i tentativi di salvarlo, purtroppo, anche con tecniche innovative, è deceduto alle 5.30 di mercoledì mattina. Diverse decine le persone che erano entrate in contatto con lui e che sono state sottoposte alla profilassi, tanta commozione e cordoglio, naturalmente, tra i familiari e tra i tantissimi amici.